Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di prize, ragazzi eccoci qua Allora in questa puntata siamo riusciti a fare finalmente altri rank, siamo ufficialmente alla G Quindi è comunque un buon punto anche perché siamo più o meno a un terzo della salita verso il punto finale, al fin fine Allora abbiamo fatto un po' di quest e qui c'è ancora la miniera PvP che per ora non ci interessa molto Perché insomma non è proprio il massimo C'è qualcuno che sta rompendo però, ah eccolo qua, lo vedevo, ora lo vedo E dobbiamo fare una cosa molto interessante, ho rentato una miniera di questo qui di Prevent Sky E ora c'è Andrea, ho visto qualcuno, anzi un ragazzo mi ha gentilmente scritto su Facebook, lo ringrazio Dicendomi che comunque questa miniera aveva tipo un potenziale assurdo di materiali E in effetti, porca vacca, guardate quanti materiali c'ha qui dentro, vabbè, ciaone Quindi ragazzi cosa faremo oggi, cercheremo di rubare i più materiali possibili qua Faremo ovviamente altre quest perché ci sono altre quest E vorrei arrivare più o meno oggi se è possibile, vediamo un po' come siamo messi con i warp Siamo alla G, vorrei arrivare almeno alla J Anche perché comunque è un po' lunghetta la faccenda Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio ovviamente E rubiamo un sacco di materiali Prima di rompere il prodotto da questa miniera Sono un attimo curioso del fatto che Magari, tipo così molto a random, non so se è davvero così Non posso vendere la roba per esempio a blocchi Tipo i blocchi di emerald, i blocchi di diamante I blocchi di ferro, i blocchi di oro sicuramente li posso vendere Questo sono abbastanza certo di poterlo fare Però non sono sicuro dell'altro Quindi adesso cosa faremo? Proveremo ad andare lì Magari, buttiamo un attimo questo Ok, vediamo un po' se riusciamo a vendere questa roba Anche perché più o meno nella PvP non ci sono i blocchi Quindi sono un po' indeciso su questa cosa Spero davvero che posso farlo Sono nella merda Qualcuno stava lì sopra, avete visto? Sì, l'avete visto sicuramente Vediamo un po' se veniamo tutto Ok, sì no, sono riuscito a vendere anche addirittura quella roba Mi sono fatto più di 35k nel giro di pochissimo tempo in realtà Ok, quindi la roba si può vendere ragazzi miei È possibile farlo Ok, quindi posso vendere tutto senza problemi Bene Ho una bellezza di uno stack di smeraldi Di blocchi di smeraldi in realtà Uno stack di blocchi di diamond Quindi voglio vedere un attimo quanto riesco a fare Se vado verso lo spawn Vorrei comunque incertare un po' l'armatura Così così adesso lo facciamo Anche perché vorrei capire se riesco a fare qualcosa di decente Per esempio voglio incertare per ora il corpetto Vediamo se scavare qualche po' di protection Perché altro Vediamo un po' che incente è uscito Mi sembra un breaking 3 e tons 2 Ok, beh in realtà ho il preferito di gran lunga protection Però ci sta Piccadro non avendo ancora una miniera Che mi do dei lapisdazzoli Sono un po' nella cacca Perché non posso fare enchant Quindi o devo andare al centro E recuperare enchanting In questo caso tipo i lapisdazzoli Oppure sono nella cacca Oddio forse c'è un po' troppa gente qui sapete Ok, va bene Noi corriamo comunque dentro ragazzi Perché voglio andare a vendere roba O qualcuno è morto Qualcuno è morto malamente Anche mia madre sta guidando verso il gatto ragazzi Anche perché sta facendo un po' di casino Povero gattino Ok, possiamo tranquillamente fare il giro Entrare subito Ok, oh, ce l'abbiamo fatta Perfetto, tutto abbastanza normale Devo essere sincero Questa parte di PPP è abbastanza innocua Devo essere sincero Ok, siamo a 82.000 Mi rimancano ancora i 40k Quindi mezzo stack Più o meno di entrambi i blocchi Poi siamo a posto Allora, altra vendita Dovremmo uscire in realtà ad arrivare Più o meno ai 125.000 In realtà forse ce ne facciamo tranquillamente Perché i soldi ce li abbiamo Dovrei comunque riparare anche il mio piccone A meno possibile Quindi dopo lo faccio Perché se no non riesco a utilizzarlo troppo spesso Perché per sapere che il piccone qui Non è che abbia questa durabilità aumentata No, no È normale Un po' come lo è Tipo un piccone normale in Minecraft Vanilla Quindi bisogna fare molta attenzione a questa cosa Comunque Entriamo nella zona PvP Vediamo un po' che c'è qua C'erano blocchi di coal Comunque no, non ci sono blocchi di diamante Non so perché sinceramente questa cosa Qualcuno mi spara Che pezzi di merda Prontanto io entro comunque Passo comunque senza problemi Quindi Scialla Si, si, si spara Tu Continua, continua La gente che vuole beccarmi con l'arco Vabbè Quindi andiamo a riparare velocemente il piccone Credo che con due dovrei farci senza problemi Magari non buttando giù il diamante Perché sai com'è È un po' inutile il diamante Envil Allora facciamo così Così Perfetto Quattro livelli Abbiamo riparato completamente il piccone Quindi possiamo mettere la roba qui dentro Il coal qui dentro E andiamo a vedere il prossimo a questo Qual è Prima di poter passare al prossimo rank Devo portarli 320 coal Quindi sono 5 stack più o meno Io ce ne ho 3 Quasi 4 Quindi manca ancora un pochetto Vado quindi nel warp Warp di ok Dovrebbe attraverso ci un po' di coal E con fortuna comunque dovremmo uscire A recuperarlo senza problemi Un po' velocemente Fate guardate quanto ce n'è Ok quindi dovremmo riuscire Senza problemi A recuperarne abbastanza Ragazzi Per farne 5 stack In realtà ne servono meno di 5 stack Anche perché contando Che sono 64 E non 60 Forse adesso dovrebbe essere giusto 320 Mi è detto Ok eccolo qua Io ho preso L'armatura in diamante Vabbè L'armatura decente Ma non so quanto ci serve Quindi però la buttiamo tutto Prossima quest Fare 640 iron ingot Ok potrebbe sopravvivere Che servono tipo Un botto di roba Cavolo ci vuole un casino ragazzi Però posso recuperare tranquillamente Se vado nella miniera Che avevo giocato Adesso Quella in cui siamo adesso Perché lì c'è comunque Tipo i blocchi di ferro Quindi se riesco In qualche maniera Un po' di blocchi Dovrei riuscire a farli Mi servono tipo Pratico uno stack intero Anzi veramente no Mi servono stack E qualcosa Di blocchi di ferro Madonna Come fai a farlo Scusami Quando sei nella miniera C E' impossibile Raga da fare Probamente subito Nella miniera C Quindi Com'era che la gente Fa ste missioni Subito O almeno quando iniziava il server Vabbè Meglio non chiederselo Mentre recupero un po' di ferro Ragazzi Voglio stasso di vecchieri La prossima puntata Vi insegnerò un metodo Per fare un sacco di soldi Problema che servono tipo Almeno 100.000 Forse Forse anche meno di 100.000 Forse servono tipo 30-40.000 Di budget iniziali Perché Andremo delle miniere In cui Non bisogna usare Per nulla il piccone Infatti Tipo Non serve il piccone Ma Tipo serviranno le mani In quanto bisogna distruggere i beacon block Per sapere che i beacon block Tipo Danno un milione Per ogni stack che fate E ci sono un sacco di miniere Con i beacon block Al completo Tipo vabbè Ovviamente non al completo Sarà tipo Il 20% massimo Perché insomma Non è che si può fare Beacon block 100% Perché se soltanto sarebbe Troppo facile come miniera E come sto dicendo Quindi Facendo in quel modo Potete recuperare tanta roba Il problema è che noi Non li possiamo vendere subito Perché i beacon block Si possono trovare soltanto All'ultimo rank Prima del free Quindi nella zeta Però possiamo andare in giro Nei plot A vendere questi ultimi E se riusciamo Faremo un sacco di guadagni Ma proprio tanti 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 E riusciremo a salire velocemente Verso gli ultimi rank Allora ragazzi Ho trasformato uno stack intero Di blocchi di iron Diciamo lingotti di iron Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Me ne servono tipo Altri 9 Quindi farei altri 64 Facciamo così Dovrei avere tutto necessario Più che altro Non 9 altri Un altro stack in più E facciamo di nuovo quest Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Ok fatto Abbiamo tanto guadagnato Questa roba in più Abbiamo preso 30.000 E abbiamo completato la quest Loads of iron Quindi adesso abbiamo un sacco di soldi Più che altro Abbiamo anche dei token Quindi tanta tanta roba Utile per andare avanti Va benissimo Così Va sincero E vediamo un po' la prossima Quest qual è Ci serve Fai un iron pickaxe Ci darà tipo Dei diamanti Ok Quindi non è male come quest Però prima di tutto Prima di poter fare quella quest Vorrei fare slash rank up Perché tanto siamo rankati subito Alla H Vedere com'è il warp H Perché potrebbe essere interessante Infatti tipo Credo sia il warp Con un po' di blocchi di oro in più Che cosa che comunque In futuro ci servirà sicuramente E ok Ci sono diamanti Ci sono blocchi di koala anche Va bene Quindi ci stiamo avvicinando Più o meno A un buon guadagno Ci sono tipo almeno 100 altri A tutti 130.000 Avre potesse da dire E devo vendere comunque Questa roba che è un inventario Quindi un po' di cose Devo ancora farle Ok Devo fare quindi la missione Qui del ferro Quindi dobbiamo forza Andare verso lo spawn E lasciare un po' di roba E poi completare ovviamente Altre missioni Utilizziamo un attimo Lo scende due stick Andiamo un attimo qui Facciamoci quindi Il nostro piccone in ferro Praticci chiederà un po' Tutte le cose in ferro Può essere Allora vediamo un po' quest Eccolo qua completo Abbiamo preso 6 diamanti Buono Quindi altri due token Poi c'erano 32 Cooked beef Io ce li ho Perché tanto tipo Avevo un inventario Io adesso usiamo le lane Ecco questa è la parte più brutta Perché devo andare A recuperare la lana Da i mob E quindi servirà Un'arma Più decente Fare una spada Pico con la spada Ci faccio tipo Sopra looting E dovrò riuscire a fare Un po' di roba Peccato che io non abbia del legno Quindi devo recuperare un po' di legno E altre cosacce Però prima di tutto Andiamo a vendere la roba Che abbiamo in inventario Così ci facciamo Un pochino di soldini Intanto di avere altri Tipo 60k Da questa roba ragazzi Che andrò a vendere Prendo dopo un attimo Mentre torno Tipo anche i lapislazoli Che mi servono Bene Quindi lapislazoli Ok Lapislazoli è ancora qua Abbiamo preso uno stack Di lapislazoli intero ragazzi So cosa che ovviamente Mi attaccherà Pezzo di merda Pezzo di merda Aia Aia Maledizione Ok Mi hanno colpito abbastanza Spero di riuscire a sopravvivere Alla morte A una morte abbastanza certa Più ce l'ho fatta E ci siamo ragazzi Quindi ora bisogna andare verso Non la forza Ma l'altra parte No wood Spawn Mi sa che ho mancato La parte in cui ci sono animali Forse dopo il wood C'è la parte in cui ci sono animali No no comunque Ricopriamo un po' di wood Se vi so che ci siamo E comunque abbiamo Un stack intero di lapislazoli Tata roba Quindi proviamo questo incianto Ragazzi molto velocemente Speriamo di trovare qualcosa di decente Sinceramente Perché qual è l'idea Allora una spada In diamante Mi sa che nonostante Tre lapislazoli Questa e il resto Quindi lo lasciamo qui dentro Nel caso dovessi essere utile In futuro Ok proviamoci Andiamo a vedere un attimo Cosa c'è da recuperare Da questa roba Unbreaking 3 Sharpness 4 Knockback 2 Ok una buona spada Se dovessi utilizzare una spada Il problema è che A me servirebbe in realtà Qualcosa con looting Vabbè comunque Se vado un attimo Verso i warp Potrebbe esserci la warp Mob farm E andiamo quindi lì A recuperare un po' di wood Cioè non di wood Di wool Ho iniziato a uccidere le pecore Poi ci ho pensato Ho detto ma Forse non è che mi conviene Utilizzare le shears ragazzi E in effetti Forse mi conviene davvero Utilizzare quest'ultime Di che altro Non c'è modo di tornare Nel senso Cioè questa è una warp Proprio a parte Va bene Senza proprio motivo Apparente di esistere Ok abbiamo tanto 26 pezzi La cosa brutta è che dovrebbe funzionare Stanto con la lana Beh in realtà Non mi dice che lana vuole Vuole lana in generale Dice 64 wools Ok noi abbiamo Wools 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 Quindi forse potrebbe essere giusta Come cosa Però mi serviranno Tipo delle shears Andiamo a farci prima delle shears Vediamo un po' se ho ragione Sul fatto che mi servono Delle wools standard Ne ho 64 perché ne ho 3 6 e 3 sono 9 E 2 sono 11 E 49 sono 60 E 64 con quelle light Vediamo un po' se tutto è giusto Facendo così direttamente Ok si è giusto Quindi quanto 15k Ok non è male Perché siamo adesso Tipo a 100.000 Ne mancano ancora 60.000 Per far salire al prossimo rank Vediamo un po' che succede Dopo di quest C'è altri E vabbè però C'è 140 pezzi di iron ingot Eh la gente lo fa così facile Trovare iron ingot Invece forse Forse non è così facile Perché se vado l'h Forse riesco a trovarli Speriamo Vediamo un po' Altri lingotti fatti Dovremo aver finito Quindi tutto quanto Andiamo con le quest Completiamo questa cosa C'è dato 30.000 Ok avete completato E adesso ci dice Fai un Ah no Vuole 25.000 Per darci un piccone Con efficienza 4 E durabilità 2 Wow Cioè serio Devo pagarti per Darmi una roba del genere Vabbè lo faremo Perché la bimba Diciamo per le quest Ma io non è che Proprio per farla Non c'ho voglia Davvero di dare i 25.000 A quel tipo Anche perché lo faccio manualmente Comunque Io direi per questa potenza Potrebbe essere anche tutto Dopo la prossima puntata Vi spiegherò come funziona Quindi il fatto di beacon block Visto che comunque Sono una cosa interessante Secondo me In ogni caso Noi ci vediamo presto A una nuovissima puntata Ciao ragazzi Al prossimo video